e cari amici allora visto che oggi si ricorda la morte del papa il 2 aprile allora io voglio ricordare il papa gorizia nel 1992 guardate un po eccolo lì guardate un po 1992 il papa gorizia allora io voglio ricordare 1992 c'era il vescovo bon marco in quell'epoca archivio di robie gorizia tv 34 a 37 anni con voi cari amici questo è l'archivio più devo ricordare dove c'è la prefettura c'è una targa messa da dal sindaco romoli c'è una targa dove che ricorda la venuta del papa papa giovanni paolo secondo che è venuto a gorizia nel 1992 eccolo qua guardate un po quell'altro dietro non mi piaceva tanto c'è un pezzettino di video dove che lui mostra anche la lingua però non l'ho messa bene comunque ecco qua gorizia gorizia tv voglio ricordare questo grande papa perché veramente grande è un grande eccolo qua eccolo qua c'era veramente un problema per per filmare perché tutti si piazzavano davanti lì c'è ah mi ricordo lì c'era il sindaco eh eh dio buono non mi ricordo il nome sindaco all'epoca un sindaco fortunato perché in quell'epoca è venuto un presidente il papa e non mi viene in mente il nome mi dispiace se sapete voi dopo lo diremo eccolo qua ecco qua lascio anche l'audio sotto ecco qua il papa attenzione ero ero fra mezzo due persone qua che cercavo di tirarli in là professore di inglese il sindaco non mi viene in mente il nome sembra rivestire una signora dell'ucinico quella di essere la porta dell'Italia che pone in comunicazione un grattino con quello slavo porta aperta sull'estero del pueblo e sull'Europa centrale ecco facciamo molta difficoltà ragazzi eccolo qua noi eravamo lì tutti messi da una parte messi da una parte era un problema aveva le loro sicurezze eccolo qua lì quello quello che adesso lui va un attimo a benedire è un quadro adesso non mi ricordo bene del credito cooperativo di Staranzano di Staranzano e che è in Basilica Grado eccolo mi ricordo benissimo questo eccolo bene nessuno lui va in chiesa ma noi eravamo fuori bene guardate il servizio questo è il servizio di Roby archivio di Roby Gorizia TV è molto più lungo però io l'ho tagliato eccolo qua guardate guardate il servizio archivio di Roby Gorizia TV io voglio ricordare anche già che ci siamo voglio ricordare eccolo qua guardate qua io ero da solo non c'era sicurezza ero da solo che sono corso per filmarlo è in via Mamelli eccolo qua guardate 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 ce l'ho proprio sotto il naso guardate un po' via Mamelli adesso c'è la Mecca lì guardate si gira di qua e di là adesso io corro vado questo è il Corso Verdi adesso io corro velocissimo vedete e sono per via Seminario chiudo qua per ricordare questo grande Papa e